E' una madonna, ma poi ci prendiamo un po' di tecnica sull'otto, perché così è un dispersivo. Cioè poi prendiamo un pezzo, ad esempio, anche qua. Una cosa che mi dico... Tu arrivi, no? Perché fate perché si vengono da là, e non si vengono da là. Cioè, proprio giusto, come boccare l'appoggio. Tu ci passi sotto, questo appoggio qua devi farlo a 3.000 all'ora, se lo vuoi fare, perché, per non perdere tempo, o lo fai forte, forte, fuori, che passi lì a fuoco, o no, per la velocità che lo fai lì, lo puoi fare là. Anche quando scari anche la marcia. Ma la scari se vai interno, ma se vai esterno, è un po' di mezzo, un po' di mezzo, un po' di tempo. Se tu mi acceleri, forte, come si dovrebbe, con la marcia che tu hai messo, un po' di mezzo, un po' di mezzo.